Le novità, oggi te faccio vedere qualche novità, ma una specialmente, è una bella novità, lo testeremo sul campo. Subito dopo, la sigla. Subito dopo, la sigla. Le novità, fammi aggiornare il calendario. Oggi sto un po' elettrico, non ci fa caso. Oggi è giovedì, giovedì, tavanti a settembre. Giovedì, ti fa registrare? Sì, mazzano. Allora, te lo dico subito, non ho copioni, ma ho dei fogli. Perché voglio fare professionista? Mi ho detto un po' così pure io. C'ho poco da legge, però te lo voglio raccontare. Allora, intanto partiamo subito con un discorso semplice. Prebarba sì, prebarba no. Secondo me è un po' come se fossi, tra virgolette, sai il medico che ti scrive al bisogno. Al bisogno sì, ma oggi nel campo dei gel pre-shave c'è una novità. Chi mi segue si socia, lo sa. Te lo faccio subito vedere con la seconda telecamera. Vai regia. Eccolo qua. Dove of Glory. L'alba della gloria. Gel pre-shave di TGS, di Hotfella Smile. Eccolo qua. Eccolo qua. Costo irrisorio. Scusa, eh. Poso il copione. Costo irrisorio. Ma veramente tanta roba. Allora, mo te racconto una cosa. Ivre Barba, Noai e compagnia bella, sono stati fatti qualche anno fa. Ma questo è stato fatto adesso. Quindi già te lo dico, senza polemiche, la formulazione è nettamente superiore. Perché è stato veramente studiato come si deve. L'ho provato semplicemente sulle dita. Te lo faccio vedere pure adesso. È molto, ma molto... È un gel, ma molto liquido. Non ha l'alcol all'interno, ma ti va da raccontare anche quello che c'è dentro. Adesso non voglio fare un'analisi chimica dell'intero prodotto. Non ha profumazione. Quindi non ti dà fastidio. Non c'è proprio nessuna sfumatura. Zero. Quindi lo puoi usare con quello che ti pare. E quello che utilizzerò oggi. È già qualcosa di focoso, di acceso oggi. Sì, oggi sto a 3.000. Non lo so perché. Sarà il dolore di dietro. Buon uso. Comunque, grazie a tutti quelli che si sono preoccupati. Andiamo a leggere. Allora, a parte io ce l'ho ancora tra le mani. Come faccio le mie classiche prove sui pre-shave. Devo sentire quanto scorre. E bagnandolo, se mi dà quella sensazione in più. Hai capito? Allora, andiamo subito a vedere. Aspetta che sfoglio tutte queste cose. Perché si mette una marea di cose. Ieri ho studiato come se ci fossero domani. Allora, sulla sua scheda tecnica, andiamo subito a parlare di come essenziali. I componenti, le particolarità di questo pre-shave. E all'interno c'è la calendula, la camomilla, per il sapore, la malva, l'aloe, il timus, il timo, il fucus, che è l'estratto di un'alga marina. Allora, queste sono tutte proprietà. Se andiamo a leggere bene, scusate, guardo qua. Allora, la camomilla comunque ha quell'effetto calmante e lenitivo. La malva, invece, aspetta, è antinfiammatorio e idratante, emolliente per la pelle. Poi abbiamo il timo, che è antinfiammatorio, antibatterico, antimiotico, e poi, no, antibiotico, quelli già l'ho presi troppi, lasciamo perdere il laddostanno, solo al bisogno, in quel caso. Allora, e poi abbiamo il fucus, appunto, che è l'estratto di alga marina. Lenitivo ammorbidisce la pelle e la levica un pochettino. Pochettino. Che... Te dà una piallata, per farti capire. E, insomma, parliamo di tanta roba. C'è meno... C'è meno cose che, in teoria, meglio evitare. Qua non c'è stanno, quindi... A primo acchitto è così, però, come dico sempre, anche se io ce l'ho sotto mano, lo devo provare. E come provarlo, se non stressando, appunto, cercando di stressare il più possibile il viso per vedere, appunto, la reazione. Allora, intanto sto a 3.000 perché sotto le mie mani c'è Texas On Fire. Texas On Fire di Sterling è qualcosa veramente di... per me stravolgente. Gli Sterling, per quanto riguarda profumazioni, sono, secondo me, tra i migliori. Tra i migliori, no, i migliori. Tra i migliori, perché sono profumazioni molto nitide, le riesci a percepire appena... appena stappi. E ti rendi conto che questo mi ricorda un po' quello che era il Toivo. Toivo, prodotto, se non mi sbaglio, finlandese, o svedese, vabbè, insomma, stiamo là vicino, se stringa la mano, nel quale c'era la presenza del catrame e sapeva di bruciato. Lui sa anche di bruciato, però ieri sera ho scoperto una cosa che mi ha mandato veramente in ecstasy. Il Dopobarba, che ti invito anche a vedere, vabbè, io l'ho aperto perché non ho resistito, sono cambiate le boccette da fiaschetta classica a una fiasca più dritta. Veramente, veramente ottimo. Ma ho sentito una sfumatura di incenso forte. Qua io sento l'incenso veramente forte. L'incenso quello da cerimonia, quello di chiesa, quella misticità particolare, anche se il Texas in fiamme, logicamente, dovrebbe odorare di bruciato. Lui lo fa. Lui lo fa anche, ma ti lascia quella, appunto, sacralità, non so di che cosa, ma forte. Per chi ama gli incensi, lascia perdere tutto quello che ha provato fino adesso e vai su questo. Garantito. Metta la mano sul fuoco. A se, battuta ho fatto. Allora, Texas on fire, veramente, veramente ottimo. Mi ero andato anche a cercare la piramide olfattiva, non te lo nego. L'avrei voluto mettere qua sopra, però poi diventa un lavorone, già per montar video ci passo parecchio tempo. Preferisco dirtela personalmente. Allora, loro definiscono il proprio prodotto, Stirling, come pelle, fumoso, cetro, catrame di bedulla, Cade, che non so che cosa sia, se lo sai, scrivono qua sotto, fammi questo favore. Poi il labdano, che è il profumo resinoso. È quello che dona, secondo me, l'accento d'incenso al dopobarba. È presente anche nel sapone, ma è più assopito, è meno forte, meno acceso. Poi c'è la vaniglia e il legno di cetro. Allora, parliamo sempre di un sapone tallovato con la lanolina e il burro di carité. Quindi, scorrevole. Scorrevole, sì, so quanto scorre per quello che oggi provo il nuovo prebarba di TGS, Dove of Glory. Glory. Chiamolo Gloria. Allora, altra cosa molto importante è che ti voglio parlare, però questa non ce l'ho bisogno. non ce l'ho bisogno, perché non ce l'ho bisogno. Allora, no, perché volevo fare una piccola introduzione per quanto ricordava il mannaggia, 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 appunto l'incenso, sta sacralità che per certi aspetti in qualche istante con un po' di mosega ti fa pensare veramente al momento di totale relax e ti posso dire che la profumazione si mantiene per qualche tempo. potrebbe essere un'ora, potrebbe essere una mezz'ora, secondo te quanto ne metti addosso. Ha una persistenza da dopobarba, non è un profumo. Cominciamo un attimo a definire sta cosa. Se sul dopobarba non c'è scritto AS Parfum rimane soltanto un dopobarba. AS Parfum si distingue per una quantità maggiore di essenza che dura di più. Ok? L'altra cosa bella che ti voglio dire e ti devo parlare anche se non ce l'ho sotto mano ma è l'inventore te lo metto qua ti faccio vedere sto bel viso è il colonnello Jacob Schick Schick non è che è Schick perché è elegante Schick Schick è l'inventore del rasoio monolama inyector oggi io non ho un inyector qua sotto però ti voglio parlare un pochettino di un single blade intanto ti faccio vedere le lamette che utilizzerò e ricorda un eh? aspetta ho fatto sto gesto per far capire allora Jacob Schick venne richiamato in servizio perché era un ufficiale americano durante la prima guerra mondiale e durante la prima guerra mondiale cercò di studiare un rasoio che potesse radere senza troppe difficoltà il viso dei soldati e inventò appunto questo sistema quando tornò poi in patria dell'inyector e te spiego il motivo questo non è questo è un te lo faccio vedere subito mazza oggi informazione testo da un rasorock blackhawk v3a a significa sta per aggressive aggressive forse così mi hai detto meglio io l'ho aperto l'ho rincartato tipo bomboniera sai che l'hai vista poi a regali vabbè perdonami ma la curiosità è mia eccolo qua guarda che bestia del rasoio un rasoio fatto in acciaio 316L che sta per low carbon e significa che il grado di resistenza è quello marino nel senso che questo lo lascia al mare non si rovina manco per niente perché la presenza di carbonio è molto bassa e a proposito di carbonio ricollegandomi a Jacob Schick lui che cosa fa lui si inventa questo sistema non è lo stesso è il sistema perché lo Schick vedi pure le feather e poi c'è il collegamento tra Giappone e USA poi però i rasoi di Jacob tac si ficcava così e si spingeva la lama all'interno perché se tu fai così la lama esce fuori questo sistema gli è venuto in mente guardando i fucili perché questo viene chiamato e poi ho bisogno un attimo della mazza quante cose sto di oggi sì perché non mi ricordo magazine repeat razor è come se fosse un piccolo caricatore che all'epoca della prima guerra mondiale i caricatori erano se non mi ha sbaglio da sei colpi o da otto c'erano dei piccoli nastrini si ficcavano dentro come il Garand c'erano il Garand che c'è il nastro da otto colpi ficchi dentro chiude otturatore e poi ta 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 e poi espelle il caricatore il nastrino è la stessa cosa perché non maneggi fisicamente in teoria con il suo rasoio la lametta single age single age che è diversa perché è diversa ecca d'acqua un'altra bella stammazza 11 minuti di video solo per di sta cosa per quale motivo il mercato che trovò a parte che fece un gran successo e diventò secondo subito dopo gilet a differenza delle lamette quelle classiche double age che ancora utilizziamo anche queste tranne queste queste non soffrono questo problema le double age avevano una base molto accentuata di carbone che succedeva siccome in quel periodo il mercato giapponese soffriva nell'acquistare le lamette double age per quale motivo la caratteristica al territorio caldo e umido le lamette spesse e volentieri si arrugginivano prima che venivano usate e che succede che qua ci si mette invece le stylus belle spesse più dure e resistono molto di più agli agenti atmosferici queste ci hanno quattro anni il bagno certo non è come la malesia però comunque l'umidità c'è non hanno subito nessun problema quindi chic comincia a fare grandi affari in giappone e fatto sta che poi la feather tira fuori la feather la kai e tanti altri iniziano a portare avanti il progetto di chic cosa interessante interessantissima come le lamette double age alcune che hanno il blister in plastica a il raccoglitore per quelle esauste una volta che l'hai finita la ficchi qua e sta in sicurezza non esce più quindi ripeto adesso mi tocca smontare il rasoio per forza di cose per poter posizionare la lametta allora un piccolo carrellata una piccola carrellata sui dettagli del rasoio molto bello veramente molto bello molto pesante e dovrebbe essere aggressivo il vantaggio del single age beh lama decisamente è un po' più lunga rispetto alle double lama più spessa e forse una una capacità di dorare più rasature rispetto alla double age che è molto più fina allora te la faccio vedere subito senza problemi allora metto qui il tutto allora io scarrello ecco qua ho preso la mia lametta peccato che non c'ho l'injector eccolo qui vado a posizionare vedi il lamettone quanto è grosso eppure leggermente più spesso rispetto a una double age quella è normale fa parte del mestiere fa parte del gioco eccola qua posizionata mettiamo la testina eccola qua e mettiamo questo bel manico massiccio massiccio proprio veramente massiccio quindi questo mi fa presupporre come se fosse la lama di un semi semi mano libera che eserciterà meno pressione sul viso logicamente questo rasoio è aggressivo quindi se te lo compri e sei un neofita non andai a acciaccare perché se spingi sta zappetta questa te fa male fidate eh se vede proprio quindi andrò con molta calma allora cosa importante vado dopo questi 14 minuti di chiacchiera certo ho raccontato un po' di storia ma è tanta roba mi bagno il viso metto il pre barba e vediamo come si comporta il tutto nel frattempo bagno rasorock 400 nero finalmente anche io posso dire che ce l'ho nero bello quanto è bello senti ma che pezza che te da mamma mia che pezza quindi in teoria visto i presupposti oggi dovrebbe essere una rasatura abbastanza abbastanza piacevole dico abbastanza perché non si sa mai poi come esce no la prima volta che l'utilizzo io c'avevo rasorock ma il v1 black hawk che era squadrato non tanto piacevole questo mi sembra più ergonomico più tondeggiante quindi vabbè vado mi dispiace mi dispiace pure ti dico la verità in togliere questa barbetta invece era affezionato quindi mi dispiace allora vado subito a prendere qualche goccetta dalle 7 alle 8 alle 10 insomma beh fai come te pare basta che non ne metti troppo guarda come scorre le posso mettere quello come pare prima che finisci questo come tanti altri di press invece metti una vita solo che ripeto la formulazione di questa è nulla che vede col passato tiè in teoria bisogna aspettare 30 30-60 secondi prima di applicare sopra il il sapone cioè io c'ho la mano che è completamente scivolosa non unta scivolosa bisogna aspettare un pochetto per dare modo anche al pre barba di lenire un pochettino il viso di stenderlo un pochettino poi lo puoi usare anche subito lo puoi utilizzare anche come prodotto per rifinitura volendo essendo trasparente ti permette di giocare in tutte le cose possibili e immaginabili allora perché lo usi su un tallovato che c'è il burro di carite la nolina perché mi va da avere la marcia in più il pre barba è molto comodo a chi utilizza dei saponi che magari non ci trova tutta questa grande scorrevolezza e quindi ha un po' di lacune il sapone se tu metti il pre ti aiuta tanto poi su saponi performanti non c'è bisogno non è che ti devo dire che c'è bisogno per forza non c'è bisogno però ripeto se ti serve una piccola mano il lavoro su lo fa mamma mia mamma che spettacolo se ti piacciono i profumi forti legno bruciato questo è veramente qualcosa di fenomenale veramente fenomenale profumo maschio allora se hai problemi nel montaggio dei saponi americani basta mettere l'acqua calda ne metti un po' di più rispetto a quelli tradizionali quindi quelli italiani quelli europei quello che vuoi e lo lasci idratare per qualche istante a me non mi sembra che non mi sta avvenendo il montaggio vedi non te devi scoraggiare se non ti viene la prima volta è normale è normale amma è spettacolo e oggi mi sono messo la metta verde per parlare di questo discorso del jacob è importante il jacob chic che poi a casa c'è pure il rasoio di sicurezza della chic che non conoscevo pensa che era il secondo produttore mondiale di prodotti per la rasatura poi lui inventa cosa mi sono dimenticato il rasoio elettrico ma la parte della storia a me non mi interessa mi dispiace però è stato il primo nel 30 mi sembra brevettarlo perché lui cercava una rasatura a secco matto però sti matti sono quelli che poi ci hanno lasciato questo piacere vado eh si accorcio perché se il nostro video è di 40 minuti mi sembra esagerato troppe informazioni a pressa in alta avrei dovuto fare due video separati ma ho troppo fomentato e non l'ho fatta allora gripposo pesante vado ti permette di lavorare una zona maggiore rispetto al double age taglio non lo sento proprio per fortuna meno pesante sul viso l'effetto strappo quasi non lo senti io logicamente che posso dire che è l'aiuto anche del pre barba sicuramente sì è tutta una serie di cose che rendono questa rasatura molto più piacevole e godereccia perché voglio dire la testina è far suo ha la metta far suo più resistente lavora su superficie maggiore il sapone fa il suo e il pre barba far suo chi è eh dai io no finalmente posso fare basetti dritti annaggia consiglio è quello di risciacquarlo quando vedi che si è caricato troppo sciacqualo perché se no ma c'è il mazza 21 minuti di video che vi sto raccontati in una commedia molto comodo molto comodo questo rasoio veramente ottimo tu mi dirai tu mi dirai mi dirai mi dirai sempre rasoio costosi eh figlio mio che te devo fare uno serate pure con quello economico ci mancherebbe anzi senza nessuna difficoltà ma se vuoi la cosa un po' più non dico ricercata ma più studiata pensata eh logicamente mi mancava questo camoto c'è una pista qua c'è un misano eh senti che botta mamma mia che botta di profumo che fa spettacolo mmm da ti dico a te di sciacquarlo poi non lo sciacquo insomma allora meno fastidi nella zona dove io ho la vertigine comodo qua sotto a posto fatto ottimo che te devo di allora sulla vertigine ho lavorato benissimo molto 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 bene rasoio scorre che è veramente una meraviglia molto piacevole è molto anche io lo definisco ergonomico veramente 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 tanta roba riesce a come dicevo prima a dare meno fastidio al viso essendo appunto una lama lunga quindi quindi il peso viene distribuito aspetta che mesciacco il bisetto e arrivo a te allora cadra muso molto molto forte molto 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 buono veramente veramente molto buono per chi ha amante delle profumazioni così accese così particolari perché sono molto particolari profumazioni così io lo consiglio senza troppi indugi ora è un ok perfetto allora ho raggiunto ogni punto del mio viso senza troppe difficoltà il peso della lama è distribuito abbastanza bene come già pensavo e il pre barba comunque ha dato il suo supporto si lo ha dato perché comunque già lo sterling se per sé è un ottimo un ottimo sapone però sinceramente parlando l'aiutino lo percepisci ripeto avrei potuto pure fare una parte con direttamente il gel pre shave ripeto è un gel molto più liquido rispetto a quello che oggi è presente sul mercato è veramente veramente posso garantirtelo buono anzi azzardere pure ottimo senza anduji me ne frega niente poi ognuno si fa una propria idea però mi raccomando discutete sempre dei prodotti quando ce l'avete sottomano mai quando non ce l'avete perché se non siate la figuraccia texas on fire finisco quest'opera veramente spettacolare con l'utilizzo del dopo barba che è qualcosa di desacrale proprio non si chiama fuoco da texas texas e in fiamme perché te fa diventare fiamme abbastanza stranamente anche limitivo nel senso che è molto si dà la botta di alcol ma non te brucia lo sento abbastanza oleoso veramente ottimo quindi che dirti provalo e fammi sapere prova rasoio anche se te può interessare come concetto perché un concetto concetto differente nella mette costano un po di più ma le sfrutti di più in questo momento sto proprio senti a meno dei cosi degli enigma per fatte capire sto proprio il numero mamma quanto mi rilasso a me a me personalmente rilasso tantissimo vabbè 28 minuti di video basta aiuto qua quindi grazie per aver visto il video grazie per i commenti e come dico sempre buoni acquisti e buone sbarbate noi ci vediamo il prossimo video sicuramente sarà una chiacchierata perché aspetto di far ricrescere questo bel tappetino che ormai sta diventando sale e pepe e da un certo punto di vista mi gusta ovviamente tu prendi proprio l'incenso non l'incenso quello che vende nella bancarella l'incenso da cerimonia da chiesa non so se l'hai mai toccato mamma mia che roba ciao ciao